Vi voglio raccontare una considerazione che ho fatto, e che è molto importante. Gli esseri umani, di per sé, sono degli animali molto deboli. Cioè, se prendi qualsiasi altro animale sul globo terraqueo e lo paragoni con gli esseri umani, noi partiamo in svantaggio. Il leone è fatto per sbranare e aprire di tutto, l'orso, vabbè, non ne parliamo, persino il pinguino. Il pinguino è più forte di noi nella misura in cui sopravvive molto meglio di noi a delle temperature estreme. Gli esseri umani, di per sé, sulla carta, sono fatti per crepare, per morire con il confronto con qualsiasi altro animale. E allora che cos'è che ha reso l'essere umano quello che è adesso? Cioè, praticamente, in cima alla catena alimentare, l'animale più potente di modificare il mondo nel bene e nel male. Gli strumenti. Sono gli strumenti che hanno reso l'essere umano quello che è. Lo strumento è importante. Gli strumenti sono essenziali. Ecco perché oggi vi voglio parlare di uno strumento nuovo che è apparso su internet e che secondo me rivoluzionerà il panorama sicuramente italiano e, chi lo sa, anche mondiale del modo in cui concepiamo l'insegnamento, il modo in cui concepiamo i seminari. Parlo di Doceti. Chiaramente c'è anche del personale, perché Doceti è una piattaforma che è stata inventata e creata da Nicola Palmieri e Mario Palladino, in arte Redez e Sinergo di quei due sul server. Sono dei carissimi amici, ma, a parte la biografia, a parte i sentimenti, penso che questo sia veramente un progetto ambizioso. Ed ecco perché mi ci sono buttato a pesce, ho deciso di partecipare. Doceti è una piattaforma estremamente chiara, estremamente trasparente, che racchiude diversi coach, diversi insegnanti, suddivisi in tante categorie e tante materie, e dà la possibilità a chiunque di partecipare o a dei seminari organizzati e in live, quindi con una data, con un appuntamento, un'ora, eccetera, oppure delle lezioni frontali. Il funzionamento di Doceti è molto semplice. C'è un sistema di crediti, quindi tu acquisti un certo numero di crediti che poi puoi spendere in seminari oppure in lezioni frontali. I seminari sono essenzialmente delle classi di diverse persone che assistono ad un unico coach. Ovviamente ogni seminario ha un numero minimo e massimo di partecipanti, a seconda della natura stessa del seminario, e questo in genere lo decide il coach di volta in volta. Inoltre, i seminari sono stabiliti, hanno una data e un'ora prestabilita. Quindi, nel momento in cui sei interessato a uno dei seminari, uno dei tanti seminari che vengono proposti su Doceti, c'è anche uno mio sulla pronuncia standard British English e sull'IPA. No, non è la birra, è l'alfabeto fonetico internazionale. Nel momento in cui siete interessati, andate a vedere data e ora del seminario e potete iscrivervi. Nel mio caso specifico, il seminario sulla pronuncia standard British English e sull'alfabeto fonetico internazionale è sabato 20 ottobre alle 15. Il seminario durerà due ore, dalle 15 alle 17, e ci sarà un'infarinatura generale del IPA, International Phonetic Alphabet, e una proposta di strumenti per consultare la pronuncia standard British English di ogni parola inglese, assieme a una presentazione di tutti i suoni presenti all'interno della lingua inglese varietà britannica. Ma non finisce qui, non finisce qui. La cosa interessante di Doceti è che è una sorta di aggregatore calendario per delle lezioni frontali, quindi private, con tutti i coach presenti all'interno del sito. Bisogna andare nella sezione apposita di Doceti per le lezioni frontali e ci sarà un calendario che presenta degli orari disponibili e degli orari non disponibili. Chiaramente si può fare la richiesta per gli orari disponibili con un messaggio richiedendo voglio imparare questa cosa, voglio imparare quest'altra cosa. Sulla pagina di ogni coach ci sono le specialità, ci sono le proposte di insegnamento di ogni coach, per l'appunto. Questo è uno strumento che può veramente rivoluzionare il modo in cui si concepisce l'insegnamento su internet. Insomma, Doceti è l'avvenimento del mese, possibilmente anche dell'anno se guardi a YouTube Italia. È un progetto imprenditoriale molto coraggioso, è un progetto imprenditoriale nostrano che sta dando tante possibilità sia per chi vuole insegnare, sia per chi vuole apprendere. Insomma, è un progetto incomiabile e secondo me dovreste darci un occhio. Non solo, ma volendo potrei darvi anche delle lezioni di inglese, di francese, di italiano, di esposizione, di comunicazione o, perché no, dei rudimenti di cinese mandarino. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Fatemi sapere che cosa ne pensate di Doceti e, soprattutto, se avete delle domande, scrivetemele qua sotto nei commenti, oppure potete scrivermi direttamente sul mio sito di Doceti, anche quello presente qui sotto in descrizione, e farmi tutte le domande che volete in posta privata. Siete stati su Barbaroffa alla prossima e ci vediamo sabato 20 ottobre alle 15 per il seminario sullo Standard British English e International Phonetic Alphabet.